farsi gli auguri quest'anno non è un obbligo è proprio una necessità auguri di buon anno di buon 2021 ma augurarsi cosa beh di ritrovare di riprendere la nostra normalità la nostra vita sociale di riprendere gli affetti l'umanità delle nostre relazioni di riprendere la nostra normalità di professionisti e di medici di vincere soprattutto questa lotta contro questo strano nemico inatteso sconosciuto nei confronti dei quali però ci stiamo organizzando ci siamo organizzati auguri di buon anno allora auguri di poter vincere questa battaglia che non è la battaglia contro un virus ma è la battaglia per ritrovare noi stessi nella nostra vera essenza di esseri umani auguri di nuovo